E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto da Federico Zanon e benvenuti a Benevento. Genoa si apre la giornata numero 37 di Serie A Team. Una sfida tra due squadre che non hanno obiettivi di classifica. Arriva l'autorizzazione all'inizio del match e si parte. Viola dalla bandierina e il colpo di testa di Gen City. Ottimo anticipo, pallone sul fondo. Parigini. Da lontano Cataldi. Conclusione contraddittoria ad uscire. Il pallone per Letizia, mezzo di abattere. Letizia calcia! Non trova la porta Letizia. Qui forse eccesso di egoismo. Biraschi. Colpo di testa di Iliamark che prende benissimo il tempo. La cresce abbondantemente sul fondo ma apprezzare il movimento di Iliamark. Si riparte! Anticipato Cataldi. Allora la Padula, limite. La Padula, palla sul sinistro. La Padula! La tiene lì Pugioni. Primo squillo di la Padula. Non c'è fallo con Biraschi che la porta. Giuseppe Rossi si gira sul sinistro. Cerca Iliamark. Dentro l'area di rigore Iliamark vuole piazzare il destro. Iliamark, Giuseppe Rossi. Calcia male. Da una buona posizione. Biraschi va da Iliamark. Il pallone all'indietro per Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi passa. Giuseppe Rossi! Pugioni! Poi la Padula steso! La conclusione di San Sedro non è finita. Alla fine sì! Perché è libero il Benevento. Doppia. Grande occasione per il Genoa. Ora occhio a Benevento. Acqua è Diabatè. Qua dentro coda. Diabatè. Va da coda. Si fila in area di rigore. Il cross ancora per Diabatè. Pala che passa. Arriva Brignola. Brignola. Sta colato di Diabatè. Brignola. Non può calciare. Arriva la conclusione. Salva Iliamark. All'improvviso. Si è accesa la partita. Occhio a San Sedro che è bravo nel terzo tempo. Non ci credo l'errore di Jim City. Iliamark. Iliamark dentro per la padula. Il colpo di tacco per Iliamark. Pugioni. Ma che spettacolo il Genoa. Omeonga. Da lontano Omeonga. Ancora Pugioni. Con una parata pazzesca. Ha salvato ancora il Benevento. Viola. Il colpo di testa di Sandro. Fuori. Sull'uscita vuoto di La Manna. Supera anche il confie. Brignola. Un costo costo. Brignola in area di rigore. Starta su sinistro. Brignola dentro per Diabatè. Diabatè. E avanti il Benevento. Con Diabatè. Vince Benevento. 1-0. Decide Diabatè. A tre dal novantesimo. Le parate di Pugioni. Hanno fatto la differenza. Prima del gol di Diabatè. Il suo assist di uno straordinario Brignola.